Pizza parigina, friarielli e salsiccia. Buonissima! In una terrina fate sciogliere il lievito secco con un po' d'acqua tiepida. In tutto utilizzerò 300 g di acqua tiepida, 5 g di lievito di birra secco, che potete sostituire con 8 g di lievito di birra fresco, e 350 g di farina per pane senza glutine. Io ho utilizzato la farina per pane Nutri Free. Impastate bene il tutto con il cucchiaio fino ad ottenere un composto elastico e omogeneo. Poi aggiungete il sale e l'olio. Continuate a impastare energicamente. Coprite con la pellicola e lasciate lievitare fino a raddoppio. Ci vorranno all'incirca un paio d'ore. Se preferite potete lasciar lievitare l'impasto nel forno preriscaldato spento. Trascorso il tempo di lievitazione, l'impasto è raddoppiato di volume. Ungete bene bene con un filo d'olio una teglia rotonda oppure rettangolare. Questo va in base alla pasta sfoglia che utilizzate. Io ho usato la pasta sfoglia senza glutine della Buitoni, che è rotonda. Se usate invece quella della Sher, allora potete utilizzare una teglia rettangolare. Stendete l'impasto all'interno della teglia. Aggiungete dei friarielli, delle cime di rape lessate, in acqua bollente e salata per 10-15 minuti. Poi sopra aggiungete sempre un pizzico di sale e pepe e della salsiccia sbriciolata leggermente soffritta in padella con un filino d'olio. Tagliate una scamorza e sistematele sul ripieno. Coprite la pizza con la pasta sfoglia e ritagliate i bordi in eccesso e chiudete bene i bordi. A questo punto, bucherellate la pasta sfoglia e spennellatela con un tuorlo sbattuto con un goccettino di latte. La pizza parigina deve cuocere in forno caldo preriscaldato a 200 gradi per 25-30 minuti, deve cuocere bene sopra e sotto. Ed eccola qui! La pizza parigina è pronta. Ora taglio una fetta così vi faccio vedere com'è l'interno. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Provatela, mi raccomando, e fatemi sapere cosa ne pensate. Se non vi piace l'abbinamento friarielli e salsiccia, potete tranquillamente condirla con passata di pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella. Con i ritagli della pasta sfoglia ho realizzato dei rustici che ho cotto in friggitrice ad aria, mentre con un pochettino di impasto della pizza ho cotto anche, sempre nella friggitrice ad aria, una bella pizzetta con pomodoro e mozzarella. A presto con un nuovo video, ciao a tutti!